Per qualcuno sono rivoluzione, senza qualcuno non compiere alcune azioni. Mi piacerebbe vivere in un paese in cui ci sia parità sociale, un paese in cui ognuno è libero di essere con me senza unire di un minuto. Molte donne si sono battute per dire basta e per questo bisogna lottare e impegnarsi oggi, perché solamente lottando oggi si può sperare in un futuro migliore. Forse perché ha paura di essere più di cara, e cerco di inseguire il mio sogno di tutti i giorni, quello di diventare una scrittrice e cerco di farlo stando accanto al mondo. Mentre i secondi passano, mi rendo conto di molte cose, di come il tempo passi così velocemente e di come io potrei metterlo a disposizione degli altri, perché il tempo passa e non si trovera e fragile. Grazie. 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 Grazie.